buongiorno a tutti buongiorno a finalmente ragazzi purtroppo non sono riuscito a fare la live stamattina ho dormito sono sincero comunque stamattina abbiamo avuto un po' di tempo e quindi abbiamo fatto una camminata al parco, un parco che c'è qua vicinissimo ed è bellissimo ragazzi è proprio un parco tipico americano le linee mila sono qui ora è troppo bello troppo bello e qua vicino a casa una bella passeggiata e quindi finalmente la casa sta si sta comunque piano piano sistemando perciò non abbiamo abbiamo più tempo libero finalmente quindi possiamo esplorare esplorare un po' la zona ed è bellissimo qua ci sono giochi per i bambini questa è una scalata carina con tutto il percorso per bambini qua c'è un altro parco qua dietro aspetta un attimo qua c'è un altro parco carinissimo e qui voglio fare volare il drone perché è proprio pacifico bellissimo mi sa che mi vengo a dormire qua qualche qualche giorno con calma mi metto giù sulla sull'erba e mi faccio una bella dormita e quindi ragazzi poi arriverà il video di stasera di tutta questa giornata e se riesco faccio magari una live più tardi con il drone cosa meno posso farvi vedere dall'alto come funziona intanto un bacio a tutti buona giornata a me e buona serata a voi ciao bacio